Siamo qui oggi al campetto, come l'altra volta oggi facciamo altri video, però oggi c'è un special guest, eccolo qua, Manuel Neuer, ok e adesso niente cazziggiamo un po' Premessa, i guanti di rampa, quando uno non è capace da padare, dice anche questo E' arrivato uno del comune, il comune sarà che usò il 28 e il 29 per lavori, ci tenevo a dirvelo Così siete ben informati, buona partita Grazie, diciamo grazie all'intervento del comune di Cermenate Aspetta, no, vai 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 vai, adesso si Attenzione, vediamo Riccardo Ramponi, long shot, challenge Oh mio dio, che traversa Va bene, va bene, va bene Mamma mia Va benissimo Vai Giorgio Vivo tiro Grazie a tutti. 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 No, no. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.